salve amici siamo giocatori per caso oggi sono uscite le ultime quattro sfide del rift tour se le fate avete questo bellissimo ombrellino che si chiama cavalca nuvole argentato e adesso vi spieghiamo come fare ma intanto iscrivetevi al nostro canale dobbiamo fare quattro sfide se avete completato tutte le precedenti per prendere l'ombrellino la prima è gioca partite con amici dobbiamo fare 10 partite con amici per poter finire questa sfida e prendere 30.000 punti esperienza non ha importanza se giocate sempre con lo stesso amico o con amici diversi basta fare 10 partite entrate fate la partita quando morite o se vincete ancora meglio avete fatto una partita la seconda apre un forziere cosmico in questo caso basta andare in giro per la mappa da soli in compagnia quando trovate uno di questi forzieri lo potete aprire il forziere si attiva solo quando tutti i membri della squadra sono vicini poi affaiono ma immagino che lo sapete già gli affaiono questi cerchi che sono da colpire a turno ognuno c'è il suo quando li avete rotti tutti il forziere si apre adesso vedete vi indica il vario cerchio dovete andarci vicino e dargli un colpo per aprirlo quelli sono i punti deboli del diamante man mano che tutte le facce del diamante sono segnate sono crepate dai punti deboli che avete colpito riuscite ad aprire il forziere quando si apre trovate all'interno una serie di armi possono essere di diverso coloro diversi tipi di armi la cosa bella è che ce n'è almeno una testa se non di più la terza sfida usano l'ologramma aliemo a rapide rischiose o all'ufficio dello sceriffo qua bisogna usare uno di quegli ologrammi che ti fanno diventare una palla gelatinosa e rimbalzi sono in due posti o a rapide rischioso oppure l'ufficio dello sceriffo ma per questo vale la pena fare un video dedicato e ve li mostro entrambi e alla fine se le avete completate tutte e tre queste sfide automaticamente sbloccate anche l'ultima che è completa gli incarichi post rift tour in questo caso vi beccate il vostro cavalcanuvole cromato che è argentato che è molto bello bene tutte le sfide sono queste adesso tra un attimo pubblico anche l'altro video con uso un ologramma alieno a rapide rischioso l'ufficio dello sceriffo così vedete esattamente le posizioni di entrambi ciao ciao alla prossima se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche dell'attività Grazie a tutti.